Non all'autonomia differenziata, ulteriore danno per la sanità in Sicilia, la Cigelle in corteo a Palermo per affermare il diritto alla salute. Agganciano due liceali milanesi a Palermo e li costringono a prelevare al banco, matti in carcere, tre persone con l'accusa di rapina aggravata. Emergenza siccità in Sicilia, il presidente della regione Renato Schifani chiede aiuto all'Unione Europea. Un report con i risultati sui morti sul lavoro dell'INAIL è stato presentato nel corso del tour regionale sulla sicurezza negli spazi confinati in Sicilia. Completati i due interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio storico di Palermo. Ben ritrovati al primo appuntamento di oggi con l'informazione di Media News. No all'autonomia differenziata, ulteriore danno per la sanità in Sicilia, la Cigelle in corteo a Palermo per affermare il diritto alla salute. Da Palazzo dei Normanni a Palazzo d'Orlean, la Cigelle in corteo per dire no all'autonomia differenziata e per affermare il diritto alla salute. Sensibilizzare la politica siciliana e i suoi rappresentanti per dare una scossa alla sanità in Sicilia, sempre più fragile rispetto alle regioni del nord. Lunghe liste di attesa per accedere alle cure. Ospedali e pronto soccorso in continuo affanno sono la rappresentazione di un settore in agonia. Per la Cigelle sarebbe proprio l'ipotesi dell'autonomia differenziata a dare il colpo di grazia all'intero comparto. È una giornata di protesta per rivendicare il diritto alla salute. Abbiamo un sistema sanitario purtroppo allo sfascio, 85.000 persone in attesa tra ricoveri ed esami diagnostici, pronto soccorso in una condizione di grossa sofferenza, carenza di organiche, di personale. A tutto questo si aggiunge il fatto che con i provvedimenti del Parlamento nazionale, con l'autonomia differenziata, c'è il rischio di ulteriore taglio di un milaio e tre di trasferimenti nei confronti della nostra regione. Questo significa mentere in ginocchi e servizi nella nostra regione e soprattutto ciò che non è accettabile è il silenzio del Presidente della regione rispetto al processo di autonomia differenziata, ma soprattutto nel non dare risposta rispetto a un sistema sanitario che è in grossa difficoltà. Ecco, 30 anni fa la gente si andava a curare al nord, oggi invece cerca i centri privati. Sì, però il problema è che nei centri privati ci possono andare chi ha i soldi, chi ha le risorse e noi stiamo costruendo una sanità non per i debole, non per i cete e per i soggetti più deboli. Questo non è accettabile e tra l'altro il fatto che comunque anche in queste ore, nonostante da una carenza di risorse nel sistema sanitario pubblico, si danno 50 milioni di euro al sistema sanitario privato è un fatto grave. Quel sistema sanitario privato che non dà nessuna risposta rispetto invece alla medicina del territorio, rispetto agli acute, rispetto a tutta una serie di questioni che sono estremamente imbellenti. Ecco, cosa cambierebbe con l'autonomia differenziata per la Sicilia rispetto alla sanità? Ma innanzitutto un taglio di risorse assai significativo. Come dicevamo, un miliardo e tre è il taglio previsto di trasferimenti dallo Stato centrale nei confronti della regione e poi questo significa un'ulteriore parcializzazione del nostro sistema sanitario. L'approvazione della legge sull'autonomia differenziata preoccupa fortemente i partiti d'opposizione. Il Partito Democratico chiede al governatore Schifani di prendere posizione a difesa della Sicilia e dei siciliani. Siamo fortemente preoccupati dal fatto che questo progetto di legge sul regionalismo differenziato abbia trovato l'approvazione definitiva, ma siamo altrettanto preoccupati della mancanza di presa di posizione di Renato Schifani su questo argomento, non solo da parte sua ma anche da parte della sua maggioranza e dei parlamentari siciliani e del sud che stanno al Parlamento nazionale, che non prendono le difese rispetto ad un provvedimento normativo che non potrà fare altro che danneggiare ulteriormente le condizioni delle regioni del sud e aumentare il gap e i divari appunto tra le regioni stesse in termini di sanità, in termini di infrastrutture, in termini di scuole. Questo provvedimento normativo è un'enorme contraddizione perché da una parte la Premier Meloni parla di patria ma allo stesso tempo sta portando avanti una norma che federa l'Italia in 20 regioni e al contempo porta avanti un concetto è quello dell'accentramento delle politiche della coesione, quindi tutto è il contrario di tutto. Allora chiediamo al Governatore Schifani che dia seguito a quello che è il mandato parlamentare che è stato conferito dai siciliani, prenda le difese dei siciliani e cominci concretamente a contrastare questo provvedimento normativo che non potrà fare altro che danneggiare le condizioni di noi tutti siciliani. Inchiesta sulla sanità etnea 11 a processo, ci sono anche Razza e Arcidiacono assolto, l'ex assessore regionale al lavoro Scavone. Il giudice per l'udienza preliminare Cannella ha rinviato a giudizio 11 persone nel procedimento scaturito da un'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania sui incarichi nell'ambito di progetti finanziati approvati dall'assessorato alla salute della regione siciliana, attribuiti secondo l'accusa predestinati o congiunti con bandi predisposti ad hoc ed esami pilotati. Tra loro c'è l'ex assessore regionale alla salute e neoparlamentare europeo di Fratelli d'Italia, Ruggero Razza, indagato per turbata libertà di scelta del contraente per la nomina di un professionista per un progetto da 10.000 euro. Per lo stesso tipo di reato contestato è stata emessa sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto all'ex assessore regionale al lavoro Antonio Scavone che si era dimesso dall'incarico di medico dirigente dall'ospedale di Catania in cui lavorava. Rinviati a giudizio anche Ignazio Lamantì, ex presidente dell'Ordine dei Medici e Giuseppe Arcidiacono, dirigente medico dell'ospedale Garibaldi ed esponente di Fratelli d'Italia che si era candidato a sindaco di Catania per poi ritirarsi. A giudizio anche Alberto Bianchi, Filippo Di Piazza, Sebastiano Felice Agatino Ferlito, Rosalia Maria Leonardi, Eugenio Pedullà, Ernesto Guidora Pisarda, Francesco Lorè e Daniele Sorelli. Il GUP ha emesso anche la sentenza del processo col rito abbreviato e condannato Aldo Missale, ex direttore amministrativo dell'Ordine dei Medici di Catania, accusato di corruzione a sei anni e otto mesi di reclusione e il medico Calogero Grillo, accusato di turbativa d'asta a otto mesi per quest'ultimo esecuzione pena sospesa. Missale è stato anche condannato a risarcimento delle parti civili, le aziende ospedaliere, Policlinico e Garibaldi. L'Ordine dei Medici è una parte lesa da liquidarsi in separata sede e fissando una provvisionale da 30.000 euro ciascuno. Grillo dovrà risarcire il Policlinico Universitario al quale dovrà versare una provvisionale di 10.000 euro. Agganciano due liceali milanesi in una traversa di via Roma-Palermo e li costringono a prelevare al Bancomat arrestate tre persone già note alle forze dell'Ordine con l'accusa di rapina aggravata. Il fatto è accaduto nel settembre dell'anno scorso. I carabinieri della Compagnia di Palermo-Piazza Verdi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Palermo nei confronti di tre palermitani, un 27enne e due 39enni già noti alle forze dell'Ordine, accusati di rapina aggravata nei confronti di due 18enni studenti di un liceo milanese. I fatti si sono svolti una sera di fine settembre dello scorso anno in una traversa di via Roma. Gli indagati avrebbero avvicinato i due giovani milanesi con la scusa di una sigaretta e una volta accerchiati li avrebbero costretti a forza a recarsi davanti di uno sportello Bancomat e sotto minaccia li avrebbero fatto per elevare 450 euro. L'indagine ha consentito, grazie all'analisi delle immagini dell'impianto di videosorveglianza dell'Istituto Bancario, di risalire ai autori della rapina, della quale gli investigatori avrebbero ricostruito tutte le fasi. I tre sono stati portati nel carcere Lorusso Pagliarelli. A Scordia scappa e semina il panico in pieno centro cittadino, un uomo denunciato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri di Palagonia hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 24enne del luogo. Durante un posto di blocco a Scordia in Piazza Italia, i militari hanno intravisto un 24enne già loro noto per i suoi numerosi pregressi giudiziali, alla guida di una Ford C-Max. Davanti all'alte però, il ragazzo, anziché fermare la sua auto, è invece accelerato a tutto gas, cercando di seminare i carabinieri. Ne è scaturito un inseguimento contro mano mozzafiato e a sirene spiegate per le vie del centro cittadino. Fin quando i militari, ormai riconosciuto il fuggitivo e accertatisi tramite la centrale operativa che quell'autovettura fosse di proprietà del padre, hanno preferito interrompere la loro corsa per tutelare la sicurezza dei numerosissimi pedoni, recandosi nella casa palagonese del giovane che ha inutilmente negato ogni loro addebito. I carabinieri hanno appurato che il ragazzo si sarebbe sottratto al controllo perché è privo di patente di guida, perché è mai conseguita. Circostanza che è recidivata, gli è valso un'ulteriore denuncia, nonché una lunga sfilza di sanzioni per le infrazioni al codice della strada commesse nel corso dell'inseguimento. Emergenza siccità in Sicilia. Il presidente della regione, Renato Schifani, chiede aiuto all'Unione Europea a limitare i vincoli per agricoltori e allevatori. Riconoscere le condizioni di forza maggiore circostanze eccezionali a tutto il territorio della Sicilia e quanto il governo regionale ha stabilito di richiedere all'Unione Europea e al Ministero della Sovranità Agricola, Alimentare e Forestale a causa della persistente siccità che colpisce l'isola da circa un anno, una delle più gravi dell'ultimo cinquantennio. La proposta del presidente della regione Schifani, che al momento mantiene anche la delega di Assessore all'Agricoltura, è stata approvata nella seduta di giunta sulla base di una documentazione che evidenzia la riduzione delle risorse idriche negli invasi e un contesto generale che pone la Sicilia in zona rossa per carenza di acqua al pari di Marocco e Algeria. Una situazione che si è aggravata nelle ultime settimane a causa dell'indisponibilità nei bacini di acqua per l'irrigazione. Per il comparto agricolo e zootecnico quest'anno si stima una perdita pari in media al 50% della produzione nello scenario di improbabili precipitazioni estive e del 75% se queste non dovessero verificarsi. Dopo aver dichiarato lo stato di calamità naturale per danni all'agricoltura il 9 febbraio ottenuto dal Consiglio dei Ministri, il riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale il 6 maggio scorso, la situazione di estrema gravità che ci troviamo ad affrontare ci impone questo ulteriore passo per sostenere le nostre aziende agricole e gli allevamenti. Queste le parole della Presidente della Regione Schifani. Il riconoscimento della condizione di forza maggiore di circostanze eccezionali dal 1 luglio 2023 a maggio 2024 consentirà alle imprese agricole e zootecniche che operano su tutto il territorio siciliano di usufruire di deroghe in alcuni ambiti della politica agricola comune che permetterebbero di non applicare determinati vincoli a pascoli e terreni, continuare a godere di aiuti, rinviare pagamenti, sanzioni e oneri. Un report con i risultati dei morti sul lavoro dell'Inail è stato presentato nel corso del tour regionale sulla sicurezza negli spazi confinati in Sicilia grazie al quale sono stati formati oltre 200 operatori. Presidente, ancora troppi morti sul lavoro, campagne di sensibilizzazione come queste direttamente sul posto, sul cantiere, diventano fondamentali. Sì, sono successe troppi morti sul lavoro. Questa campagna nasce prima delle cinque vittime. Noi da tempo avevamo programmato di far venire Collinaile, Collinaile regionale, di far venire questo simulatore. Noi formeremo 200 persone qua su Palermo, nella provincia di Palermo. 200 operatori formati e formati così, col simulatore, sono una forza. Noi ci stiamo battendo e ci stiamo battendo tanto perché la sicurezza arriva a ognuno. Ognuno si deve sentire cosciente di quello che va a fare. La formazione diventa sempre più fondamentale per arrestare questa emorragia di vita umana. Assolutamente sì. Oltre 1040 morti all'anno, i dati dell'INEL ce lo dicono, sono non preoccupanti ma devastanti. Noi abbiamo lanciato come Palermo, come panorme, questo progetto insieme all'INEL. è itinerante. Come itinerante deve essere la cultura della sicurezza che va installata in tutti i luoghi di lavoro e anche nei banchi di scuola, oserei dire, già dai banchi di scuola. Ovviamente quello è un effetto che sarà a lungo termine. Noi come forze sociali, come panorme, come scuole dire, stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie affinché fin da subito possiamo dare risposte concrete ma anche le istituzioni devono fare la propria parte. Direttore, i dati sempre più allarmanti. Avete lanciato questo progetto importante, un tour regionale che parte da Messina, fa tappa a Palermo e si chiude a Catania per infondere la cultura della sicurezza sul lavoro. Sì, è un momento importante questo per la Sicilia, per i lavoratori della Sicilia e per le aziende della Sicilia. Finalmente siamo riusciti ad ottenere la presenza in regione di un simulatore INE che è un brevetto che l'Istituto ha realizzato a livello nazionale e anche europeo e in altri stati che consente di creare le condizioni che esistono all'interno degli spazi confinati e di fare non solo formazione ma anche addestramento specifico in modo tale che i lavoratori possano rendersi conto effettivamente dal vivo di quali sono i possibili rischi connessi a quel tipo di attività. Lei è responsabile proprio sul cantiere per la sicurezza. Qual è la risposta dei lavoratori e delle imprese? No, la risposta dei lavoratori è abbastanza buona, specialmente il nostro acqua lavoro che è il collettore sudorientale che è proprio un lavoro in ambiente confinato proprio grazie all'iniziativa che ho fatto in concordato con il CPT di Palermo di questo simulatore è stato un evento che è di grande orgoglio da parte nostra ospitare proprio la prova pratica di questi ambienti confinati. Anche Ance Palermo, protagonista di questo appuntamento importante, fondamentale per sensibilizzare sull'importanza della formazione negli spazi confinati? Assolutamente sì, Ance deve essere presente perché Ance rappresenta i costruttori che spesso in maniera sbagliata sono additati come quelli che lavorano poco in sicurezza in realtà è tutto il contrario. Noi partecipiamo molto a convegno, oggi invece è una giornata seria perché non è un convegno, oggi è la prova di quello che dobbiamo fare, mettere in pratica una formazione seria che non è chiacchierata, che non è raccontata nei tavoli delle università ma è in campo. Oggi è una giornata importante e quindi Ance deve stare in prima linea per forza. Continua la campagna di informazione e sensibilizzazione di Tele1 sui temi del sovrandebitamento e della prevenzione anti-usura. Un viaggio nel dramma degli indebitati ma anche l'incontro con la fondazione anti-usura Santimamiliano e Rosalia di Palermo che ogni giorno lavora per aiutare gratuitamente famiglie ad uscire dal tunnel dei debiti. Domenica prossima su Tele1 la seconda puntata dello speciale dedicato al sovrandebitamento da gioco d'azzardo. È in crescita in Sicilia il numero delle persone sovrandebitate. Molti per disperazione si rivolgono agli usurai ma pochi sanno che esistono fondazioni anti-usura pronte ad aiutarli. Ma chi sono le persone che possono rivolgersi a loro? Sono persone che si sono trovate e si trovano tuttora in situazioni di sovrandebitamento. situazioni legate a motivi più vari sicuramente alcuni sono per motivi indipendenti dalla loro volontà quindi perdita di lavoro, riduzione di lavoro, perdita di lavoro di uno dei due coniugi su cui si faceva affidamento, situazioni di gravi malattie che per cui si sono dovuti indebitare, situazioni per cui come in questi ultimi tempi rate di mutuo che sono schizzate a motivo del tasso variabile e che quindi oggi non sono più in grado di poter sopportare. Situazioni invece altre che sono sia pure in buona fede delle persone che si sono indebitate non sapendo gestire bene il denaro o le entrate che avevano in quel momento. La vostra missione è quella di una vera e propria missione di accompagnare, prendere per mano e far uscire a volte da un tunnel chi è disperato. Esattamente, vogliamo evitare che le persone intanto si rivolgano agli usurai e quindi come diciamo sempre da noi c'è un pronto soccorso economico nel senso che non che diamo soldi ma che ristrutturiamo la situazione debitoria e con i fondi messi a disposizione dallo Stato possiamo dare la possibilità a queste persone di avere un solo debito con una sola banca con un fido garantito da noi. Poi ci sono delle situazioni in questi ultimi anni che sono le più gravi che sono quelle del gioco d'azzardo patologico, le persone che giocano e si indebitano proprio per continuare a giocare ma là diventa una malattia per cui chiaramente queste persone devono prima recarsi in un centro per disintossicazione, devono andarsi a curare per poi poter essere aiutate da noi. E di gioco d'azzardo e ludopatia si parlerà domenica alle 15 su Teleguan nella seconda puntata dallo speciale dedicato al sovrintembitamento. Aeroporto di Catania, forti perplessità sulla demolizione del Terminal Morandi. A poco più di un mese dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per il bando di gara a procedura aperta pubblicato dalla SAC per la demolizione dell'ex aerostazione passeggeri Terminal Morandi, non possiamo che esprimere forti dubbi e perplessità in merito al futuro dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Riteniamo che la demolizione del Morandi, simbolo storico per la città, oltre a rappresentare una perdita significativa per il patrimonio culturale e architettonico locale, comporterebbe costi inguenti ma soprattutto potenziali disagi per l'economia locale, tanto più evidenti se consideriamo che il disciplinare di gara parla solo di progettazione esecutiva e realizzazione di interventi di demolizione del Terminal, lasciando dubbi su quella che è la fase di ricostruzione, senza considerare poi il significativo impatto ambientale che la demolizione avrebbe. Sia in termini di rifiuti generati che di risorse per la ricostruzione di nuove strutture. Lo dichiara la coordinatrice catanese dell'MPA Pinalberghina, tornando sul futuro dello scalo aeroportuale dopo l'intervento dei consiglieri dell'MPA a margine della seduta straordinaria che si è tenuta lo scorso aprile per discutere sul futuro dell'aeroporto di Catania. Riteniamo doveroso anche la luce delle iniziative portate avanti negli ultimi giorni da alcune categorie professionali puntare sulla salvaguardia di una infrastruttura strategica, quale appunto il Terminal Morandi, con l'avvio di studi di fattibilità per l'adozione di soluzioni alternative alla demolizione e soprattutto con il coinvolgimento diretto della comunità intera nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione. E ora parliamo di beni culturali completati, due significativi interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio storico di Palermo. Uno riguarda cinque affreschi dell'ingresso della Sala della Congregazione dell'Immacolata nell'ex convento di San Francesco di Paola, oggi Caserma Roggero VII. Solo le persone riescono a lavorare bene quando si intendono nel modo migliore possibile, questo è il discorso, è solo un fattore umano, basta. E' una fortunata serie di ritrovamenti, proprio qui furono trovati i primi dipinti monumentali che rappresentavano delle scene del Vangelo, che questo era l'antico refettorio, poi durante i lavori di restauro di questi tre dipinti monumentali un militare scopre sotto l'intonaco altri affreschi di una mano finissima e la prima idea è stata proprio quella di farli restaurare e la Sovrintendenza dei beni culturali ha avuto veramente una maestria unica in questa per renderli fruibili al pubblico, perché questo è patrimonio degli italiani, è patrimonio della cittadinanza. Quindi siamo riusciti finalmente a farlo, ora sono aperti al grande pubblico. Sono degli affreschi del Seicento che rappresentano scene di vita della Vergine, perché qui insisteva il convento di San Francesco di Paola prima del 1866. Oggi siamo qui con l'esercito italiano che ha dimostrato grande sensibilità e grande sinergia per chi ha lavorato in concomitanza con i nostri tecnici della Sovrintendenza per il restauro di questi affreschi, ma potremmo dire altrettanto per il reflettorio piuttosto che per la cavallerizza. Un lavoro eccezionale fatto in joint, in teamwork, con un lavoro di squadra che ha valorizzato sicuramente il nostro patrimonio, ma ha dato grande slancio a quelle che sono le iniziative. Insieme si può e insieme dobbiamo fare decollare questa terra di Sicilia. Il portico è composto da 36 archi, 9 per lato e ultimamente abbiamo chiamato, abbiamo fatto uno studio particolare per vedere il rapporto fra arte e religione. Quindi in 9 multiplo di 3, 3 sono il numero perfetto, 3 sono le persone, pare, figlio e spirito santo, 3 sono le ore che ci portano alla morte di Gesù, ora terza, ora sesta e ora nona, ecco perché quasi tutti i portici hanno 36, cioè tutti i portici hanno 36 archi. E ora cambiamo decisamente argomento vincitori di Strix Factor per la categoria musicisti sul palco di Striscia la Notizia, il duo Alessandra e Alessandro, una giovane coppia palermitana non solo nella musica, si racconta ai microfoni di Tele One. Grande successo arriva per questa nuova coppia di musicisti, Alessandro e Alessandra. Esatto, è da dieci anni che ormai suoniamo e ci esibiamo in vari posti della Sicilia, anche fuori nelle isole, abbiamo questo duo musicale in cui proponiamo la nostra musica o riarrangiamenti di brani famosissimi, come nel caso del talent che c'è stato di Strix Factor dove abbiamo provosto una nostra versione del del brano Odissea del rondo veneziano. Quali sono i vostri strumenti musicali? Allora, nel mio caso il violino elettrico, Alessandro invece suona i synth. Quali sono i vostri inediti? I nostri inediti sono Etna, Baba, Close Up, abbiamo vari brani che abbiamo appunto composto e si trovano su tutti i digital store, quindi su Spotify, Beatport, YouTube, eccetera. Quali sono i vostri prossimi progetti futuri? Allora, sicuramente continuare a produrre nostra nuova musica e farla ascoltare il più possibile. Magari chissà arrivare in qualche festival di musica elettronica è importante. Date dei vostri spettacoli qui in Sicilia? Allora, abbiamo varie date dove di solito appunto pubblichiamo tutto sui nostri canali social, quindi su Instagram, eccetera. Abbiamo in programma varie serate dove potrete venire a sentirci. Si alza il sipario sulla 35esima edizione di Palermo Ladies Open, torneo WTA 250 in programma dal 13 al 21 luglio sui campi in Terra Rossa del Country Time Club di Palermo. Per la quindicesima volta sarà presente Sara Errani. Insieme a Sara Errani abbiamo quasi tutte le migliori italiane, l'altro c'era Etto, Trevisan, quindi ci sarà anche Tatiana Garbino che è capitana della squadra per le Olimpiadi, quindi sarà qua anche per allenare la squadra, diciamo, anzi, le giocatrici che sono presenti qua. Abbiamo la testese numero 1, Elina Svitolina, numero 20 delle classifiche mondiali, ma ex numero 3. Qualcard vengono date Alia Teolmaiervic e Paola Badosa. Paola Badosa, sappiamo, è stata numero 2 del mondo, ha giocato già a Palermo nel 2013 con una wildcard quando era ancora 15enne senza punti. Poi ha giocato nel 2019 quando ha perso in semifinale con Kiki Bertens, poi è diventata una grande giocatrice, è diventata numero 2, ha avuto un infortunio, è stata ferma per sei mesi, adesso sta ripartendo e gli vogliamo dare una nuova possibilità. È una scalata, però comunque si hanno partite in più per prendere confidenza con l'atmosfera, col pubblico, con le condizioni di gioco. Quindi da una parte io ho sempre creduto che sia un vantaggio iniziare dalle qualificazioni, anche se arrivare fino in fondo al torneo è molto più lontano, molto più difficile, ma si è visto che non è per niente impossibile. È quasi due anni che sono qui al country, ma mi sento come se fossi a casa, nonostante il periodo che è relativamente poco, ma sia Giorgio che Oliviero mi hanno sempre fatto sentire dal primo momento a casa, anche questo si è dimostrato l'anno scorso, dandomi subito la WICAR per le qualificazioni, per poter partecipare a questo torneo importantissimo, nonostante io fossi stata qui da sei, sette mesi. Quindi io mi sono sempre sentita come se fossi a casa e spero di onorare al meglio questa opportunità che mi hanno dato. È un orgoglio inspiegabile, immisurabile, anche quest'anno avrò la possibilità di giocare il Palermo Ladies Open e sono molto felice di questo. Devo ringraziare ancora una volta il direttore Oliviero Palma e il presidente del circolo e ce la metterò tutta come ogni anno e quest'anno magari siamo più in forma degli anni passati e sto giocando sempre meglio, la classifica lo dimostra e non vedo l'ora di portare il tennis siciliano avanti. Catania ospita la quinta edizione dei mondiali, una mini olimpiade organizzata dai centri sportivi aziendali industriali Italia e Sicilia. I numeri testimoniano l'importanza dell'evento, attesi ben 3.783 atleti da 30 nazioni di quattro continenti diversi. Il sindaco Enrico Trantino afferma l'evento ha straordinaria potenzialità turistico-culturale, la presenza di così tante nazioni in un momento storico difficile non era facile e siamo fieri di questo. Daremo un'immagine attrattiva che ci consente di essere al centro dell'attenzione, ci permette di essere leader per le infrastrutture sportive. Creiamo, anche sollecitando i nostri cittadini, tutte le condizioni per garantire un'ospitalità serena. La cantante Skin è stata l'ospite principale della cerimonia di apertura dei giochi che si è tenuta ieri sera a Piazza Università Catania con la sfilata delle nazioni in gara e anche le rappresentazioni della sonnambula di Vincenzo Bellini e della traviata di Giuseppe Verdi. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima edizione di Media News e vi auguro buon proseguimento di ascolto. Grazie a tutti!